Caterina Balivo potrebbe essere sostituita da Annunzia de Girolamo alla RAI. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, l'ex parlamentare avrebbe il sogno di condurre un programma popolare nella stessa fascia oraria occupata attualmente dalla volta buona di Caterina Balivo. Alberto Dandolo, giornalista di Oggi, ha svelato queste indiscrezioni che stanno facendo parlare molto. Caterina Balivo ha alle spalle una lunga carriera in RAI, iniziata come valletta, scommettiamo che, e proseguita con ruoli da inviata ai raccomandati e Miss Italia. Ha condotto programmi di successo come Festa Italiana e Dimmmi la Verità, battendo persino il talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo esperienze televisive sulla set e con chi vuole sposare mia mamma, è tornata in RAI nel 2023 con la volta buona, evoluzione di Vieni da me. Le voci su una possibile sostituzione di Caterina Balivo con Nunzia De Girolamo si fanno sempre più insistenti. De Girolamo, nota per la conduzione di estate indiretta e apprezzata dal pubblico, potrebbe prendere il posto di Balivo se quest'ultima decidesse di intraprendere un nuovo percorso professionale. Resta da vedere se queste indiscrezioni si trasformeranno in realtà e se il pubblico accoglierà positivamente un eventuale cambio alla vita.